Un grande ritratto nell'atrio del Museo dell'Accademia di Mustica accoglie i visitatori a rappresentare, evocare quegli aristocratici genovesi particolarmente sensibili, attenti alle nuove istanze illuministiche che diedero vita alla scuola nel 1751. Chi è il personaggio? Paolo Gerolamo Grimaldi, insieme a lui a rappresentare questa categoria di aristocratici fondatori, lo fronteggia il doge Gio Giacomo Grimaldi, un personaggio tutto genovese, mentre Paolo Gerolamo, vale la pena di ricordarne i tratti della biografia proprio perché genovese d'origine, genovese di nascita, svolse tutta la sua attività fuori dai confini della Repubblica. Giovanissimo ebbe la fortuna di essere chiamato quale precettore dell'infante di Spagna e, una volta salito al trono, Ferdinando lo nominò ministro plenipotenziario. A questa carica era giunto, grazie ai favori e all'appoggio del padre e dello zio, cardinale che l'aveva assunto, l'aveva preso sotto la sua protezione, ministro plenipotenziario e successivamente, quando in realtà la morte del sovrano Carlo di Borbone, il fratello minore, lascerà il regno di Napoli, il trono di Napoli, per passare al trono di Spagna, manterrà il ruolo di Paolo Gerolamo promuovendolo addirittura segretario di Stato, quindi una carica di pieno potere. Da quella carica poi passerà successivamente ad essere ambasciatore della Corte Borbonica presso lo Stato Pontificio per rientrare in tarda età a Genova. Una vita davvero piena, davvero intensa, che questo grande ritratto magnificente, un ritratto che naturalmente è debitore della grande ritrattistica seicentesca, pensiamo ai grandi esempi di Rubens, di Van Dijk, la stessa postura del personaggio, l'allestimento scenico, la colonna, il drappo, il tavolo, la poltrona, sono tutti ingredienti che collocano il personaggio nel proprio ruolo. Persino l'abito, l'uniforme civile è emblema del suo ruolo e tutti gli oggetti che sono rappresentati raccontano a noi le vicende, i successi politici di questo personaggio. Dal Palazzo Reale di Aranquezzi che si scorge sullo sfondo, per cui Paolo Gerolamo fu attivo come sovrintendente ai lavori di restauro, alla lupa capitolina, alla lupa bronzia che si scorge sotto in basso sotto il tavolo rivestito da un bel damasco rosso, che evoca appunto la sua presenza alla corte pontificia. E poi sul tavolo, quasi sciorinati in maniera disordinata, documenti, carteggi che evocano i suoi principali successi diplomatici, tra i quali il trattato tra Francia e Spagna, il pacto di famiglia che sancì la fine di una lunghissima controversia tra le due dinastie borboniche che governavano la Francia e la Spagna appunto. Dicevo, alla fine della sua carriera ufficiale, tornò a Genova e riprese i contatti con l'Accademia che non aveva mai abbandonato, nonostante la lontananza. E soprattutto a Genova diede vita ad una operazione di enorme interesse perché fondò la Società per le Arti e le Patrie Manifatture, una società che si proponeva sull'esempio di quanto era avvenuto in Spagna, di quanto lui aveva sperimentato direttamente durante la sua permanenza madrilena, si proponeva di promuovere le arti, le arti applicate, l'artigianato, favorendo contatti tra artigiani, favorendo la formazione, favorendo anche il confronto e il mercato attraverso mostre. Tant'è vero che quando lui morirà, nel 1789, la Società per le Patrie Manifatture gli decreterà un busto in marmo proprio nella sede e il busto in marmo deriverà da questo ritratto. Ma di chi era questo ritratto? A lungo è stato creduto di Anton von Maron, il celeberrimo ritrattista attivo a Roma negli anni della sua permanenza romana. In realtà si tratta di una copia realizzata dal più eccellente allievo di von Maron, Francisco Xavier dos Ramos, l'originale eppure a Genova, in collezione privata genovese, la copia in Accademia e per i casi della storia l'Accademia conserva anche il busto in marmo che era conservato nella sede della Società delle Patrie Manifatture. Quando con la rivoluzione democratica nel 1797 l'istituzione venne chiusa, quanto era conservato in quella sede di prestigioso di rappresentativo fu donato all'Accademia e oggi in Accademia è documentato questo personaggio così importante per la storia della città e per la storia della nostra istituzione da un duplice ritratto. Entrando nel museo dell'Accademia, ci accoglie questa grande tela di un benefattore del costituito nucleo di opere e fondo del Museo dell'Accademia che è il Duca Grimaldi. È importante il fondo e il Museo dell'Accademia per gli studenti perché possono toccare con mano e vedere dal vivo opere che possano aiutarli nella ricostruzione, ad esempio nel mio caso sono docente di costume di scena, la ricostruzione del costume, quindi l'attendibilità ricostruttiva e storica del costume. Questo è importante e avere dei quadri, delle sculture alle quali potersi riferire è importante. Ecco che l'Accademia ha un grande tesoro e questo tesoro per gli studenti può essere davvero fondamentale. In questo caso abbiamo un personaggio illustre della metà del Settecento, genovese, e dico genovese perché si vede subito dal costume, perché il costume ad esempio usa le sete che sono lampanti, una fascia di marezzato di seta preziosa e la marzina, il gilet, i pantaloni sono tutti di seta perché non dobbiamo dimenticare che Genova era una capitale importante della produzione e della diffusione nel mondo, davvero nel mondo, di questo materiale che l'ha resa celebre non soltanto per i parati dei grandi palazzi ma anche per l'abbigliamento, soprattutto quando si trattava di eminentissime personalità. E questo è uno dei casi più emblematici e lo abbiamo scelto nella quadreria infinita del museo perché indossa una marzina, così si chiama questa giacca, che contraddistingue questo periodo storico ed è diventata un'immagine e tra l'altro sarà anche il centro dell'insegnamento nel prossimo anno accademico per la mia materia. Perché? Perché ha avuto una storia importante ed è una giacca che deve essere costruita, deve essere realizzata precisamente, perché ha una funzione importante questa giacca, perché fu concepita e così serve anche per lo spettacolo, per conferire una particolare gestualità. E voi mi direte una giacca per indirizzare un gesto, un'espressione nei movimenti? Sì. È una giacca che per la costruzione della spalla conferisce una gestualità rigida, non si può alzare il braccio fino a una certa altezza e più non si può. E quindi anche in scena è importante perché ci dobbiamo ricordare che il costume deve conferire le caratteristiche ma anche la gestualità del personaggio. questo è importante e quindi è importante che la giacca sia costruita filologicamente rispettando i canoni storici. Ed ecco che allora è importante i riferimenti iconografici. Si parte da qua, non si può assolutamente tralasciare questo aspetto. Ecco che allora questo del Museo dell'Accademia diventa un patrimonio fondamentale. Si parte da qua, si parte dallo studio attento dei materiali, dei ricami, in questo caso sontuosissimi, di canottiglia d'oro, ma soprattutto delle linee, delle forme. Vedere anche come si poteva utilizzare alcuni materiali per rappresentare uno status sociale. In questo caso il rosso e di questo rosso, abbinato al blu. Erano i due colori che in un subito dimostravano un livello sociale e una posizione. Era importantissimo. E così succede anche sulla scena. Quando noi vediamo, e mi capita spesso, arrivare in scena un personaggio con un grande, una donna ad esempio, con un grande vestito bianco, è inutile dirlo. Nel nostro immaginario noi pensiamo che è una sposa. Non si può non pensarlo. E in realtà noi sappiamo che di bianco le spose hanno cominciato a vestirsi davvero tardi, alla fine dell'Ottocento. Però il nostro immaginario è questo. E l'immaginario del rosso e di questo particolare rosso, abbinato al blu, ha un messaggio di grande nobiltà aristocratica e regale. Quindi non si troverà mai un re, come dico spesso, vestito di colori bruni. Quasi mai. Non succede veramente mai se non il regnante vestito da pastorello, che era una moda che era in voga nel Settecento, ma che aveva una particolare volontà. Ma non si può pensare che un regnante, che un esponente dell'aristocrazia possa vestire colori bruni. Proprio questo per dirvi che nell'immediatezza visiva della scena il costume deve essere, deve avere una comunicazione immediata. Quindi da queste fonti iconografiche si impara appunto la competenza e la scelta dei colori, la scelta dei materiali, la scelta e il dosaggio delle decorazioni. Questo ritratto è decoratissimo non soltanto dal punto di vista del ricamo, ma ha al collo una grande onoreficenza del toson d'oro, che era una delle più alte onoreficenze all'epoca, ma non soltanto un'onoreficenza, ma un'onoreficenza gioiello, perché è tutta tempestata di diamanti. Quindi proprio a dire che è cavaliere del toson d'oro, ma lui ha voluto decorare la sua onoreficenza come un grande gioiello. Non poteva portare la corona, ma si è, tra virgolette, accontentato dei diamanti che hanno adornato la sua placca e il suo collare. Quindi, e questi sono elementi, sono elementi che ci aiutano anche nella ricostruzione, che serve anche, perché è competenza di chi si occupa del costume, anche dei gioielli, che nella scena le riprodurremo di vetroresina, ci divertiremo a riprodurle di tanti materiali, sostituiremo chiaramente i diamanti con dei cristalli, con delle pietre sintetiche, ma riferendosi a questi. Quindi lo studio del dal vero è importante per ricostruire la scena.